Nuovi dettagli sui concerti dell'estate 2019 di Blasco. Ieri l'annuncio ufficiale dei quattro show a San Siro l'1, 2, 6 e 7 giugno 2019. Il Vasco non stop live 2019 farà tappa, come già confermato nei giorni scorsi, solo nel capoluogo Lombardo e a Cagliari con date ancora da annunciare per la Sardegna.I biglietti saranno messi in vendita da domani giovedì da 8 novembre, ore 10,00, fino alle ore 12 di venerdì 9 novembre. Per gli iscritti al Fan Club e dalle 13 di venerdì 9 novembre per gli altri.Il sito di Vasco ha pubblicato i prezzi di tutte le tipologie di biglietti disponibili. Questo è il costo totale, compresa la commissione, a cui vanno aggiunti solo 9,49 euro a transazione spedizione per l'Italia. 1 Grado Anello Rosso NUM Vipec 254,10 euro ingresso riservato. Un biglietto di 1 Grado Anello Rosso. Cena a buffet con open bar in sala riservata. A partire dalle ore 18,30 e fino alle ore 20,45 Prato Gold 96,60 euro Prato 78,49 euro Un grado Anello Rosso num 96,60 euro due gradi Anello Rosso num 78,49 euro Un grado Anello Verde e Blum 62,79 euro 2 gradi Anello Verde e Blum. non 55,55 euro 3 gradi anello rosso, non 55,55 euro 3 gradi anello rosso.